Una rete di biomonitoraggio ambientale avvalendosi delle api come attendibili indicatori. Con questo strumento il Comune di Pesaro, Provincia, Arpam e altre realtà vogliono dare valore al territorio marchigiano. Territorio che farà da raccoglitore per le diverse arnie che verranno dislocate, fungendo da centraline ambientali. Per questo motivo a Pesaro sarà rilevante il ruolo che ricoprirà il Parco Miralfiore, che con la sua area naturalistica favorirà la conservazione di biodiversità. Soroptimist International Club di Pesaro è l'avviatore del progetto, oltre ad essere da tempo pioniere a favore della tutela dell'ecosistema. Assolutamente parte tutto da un progetto del Soroptimist che è nato per il centenario del club. Siccome si voleva tutelare l'ambiente e perseguire anche uno dei nostri obiettivi, che è l'agenda 2030, si è pensato di posizionare tante arnie in tutte le città dove ci sono i club del Soroptimist e tante famiglie di api. E quindi questo è stato fatto anche qua. Nel protocollo della provincia del 2021 abbiamo anche già ipotizzato il biomonitoraggio, perché c'era già... quindi voglio dire siamo... perseguiamo tre obiettivi, che uno è la sostenibilità e anche appunto l'ambiente e la tutela dell'ambiente attraverso le api e anche la loro vita qua. Anche, diciamo così, quello che può essere l'empowerment femminile, noi siamo un club femminile, quindi anche cercare di dare un qualche spiraglio, lavoro a delle donne. Non ultimo, ma importantissimo, un'attività didattica e di educazione, perché sono previste visite delle scuole anche in tutte... sia al centro florovivaistico e poi quando si posizioneranno le altre arnie al Parco Scarpellini. Le api, lo sappiamo, sono fondamentali per l'impollinazione e quindi per la vita delle piante in generale. E di conseguenza poi per la vita degli animali, che in qualche modo sono legati al consumo delle piante. È un problema di grande attualità, perché sappiamo benissimo che le api sono in grave pericolo per l'utilizzo del... in modo particolare per le azioni atropiche e per l'utilizzo dei pesticidi in maniera proprio sistematica. Quindi ecco, tutto quello che rientra in questa attività di tutela della biodiversità delle api, ma anche degli apoidei solitari, insomma, tutti gli apoidei in qualche modo sono coinvolti nei processi di polinazione, sono azioni fondamentali proprio per garantire la sopravvivenza di questi insetti. Gli impollinatori sono degli indicatori biologici fondamentali per quanto riguarda la presenza delle sostanze nell'aria. E questo progetto parte proprio da questo, dalla capacità dell'impollinatore che raccoglie nel proprio corpo e nel proprio prodotto, nelle arnie, tutto quello che noi troviamo nel raggio di azione dei medesimi nell'ambito appunto dell'ecosistema che frequentano. Il loro ruolo quindi è fondamentale per questo come, diciamo, amministrazione, nel momento in cui c'è stato proposto di entrare in questa rete che ha avuto origine comunque con il centro floristico Ricerche Marche, Brilli e Cattarini, abbiamo subito aderito.